La parola di oggi è perspicuo. L'aggettivo perspicuo deriva dal latino perspicuus, partecipio del verbo perspicere, composto dal prefisso per, che dà l'idea dell'attraversare, e dal verbo specere, che vuol dire guardare, quindi penetrare con lo sguardo. Anticamente il significato di questo aggettivo era quello letterale, cioè con perspicuo si intendeva dire diafano, trasparente, che si lascia attraversare dalla luce. Successivamente è prevalso il significato figurato e con perspicuo si intende qualcosa di evidente, che è facile da capire grazie alla chiarezza e alla precisione con cui è espresso. Quindi diremo è stato un discorso perspicuo, un ragionamento perspicuo, per dire che sono discorsi o ragionamenti chiari e a tutti. Di una persona che si esprime con chiarezza diremo che è perspicuo nel dare spiegazioni. Sinonimi di questa parola sono chiaro, congruo, evidente, limpido, di facile comprensione. Riporto a mo' di esempio alcune frasi tratti da documenti pubblici. Ciò posto devo però osservare che il quesito in esame non appare affatto perspicuo. Oppure, a giudizio della commissione questa modifica rende il testo della direttiva più perspicuo senza alterarne il contenuto. O infine, il comitato auspica che la modalità di gestione e di accesso ai fondi vengono rese più perspicue e si traducano in istruzioni pratiche chiare. Ci sono peraltro alcune parole molto simili a perspicuo perché hanno almeno in parte la stessa etimologia, ma che hanno significati molto differenti e che è opportuno non confondere. Innanzitutto il poco usato prospicuo, dove il prefisso pro al posto di per indica il senso di elevato al di sopra in posizione elevata e viene usato in senso proprio. Ad esempio, il castello fu costruito in un luogo prospicuo. Oppure, si mise in posizione prospicua per osservare meglio tra la folla. Usato anche in senso figurato. Un gentiluomo dai prospicui natali, per dire che è una persona, diciamo, di natali nobili. Oppure, il lignaggio non era prospicuo, per dire esattamente il contrario. Un'altra parola è poi l'usatissimo cospicuo, dal latino conspicere, scorgere, guardare e al passivo essere guardato, dare nell'occhio, farsi notare, che viene usato nel significato di notevole, ragguardevole, che merita considerazione. Per cui diremo, per esempio, famiglia cospicua, persona cospicua, ma anche e soprattutto numericamente o quantitativamente grande, un cospicuo patrimonio, una somma cospicua, una cospicua eredità. Infine un accenno alla parola perspicace, che ha l'identica etimologia di perspicuo, ma che servisce a persone che ha un'intelligenza penetrante, che intuisce al volo anche cose non espresse chiaramente. E quindi, mi si perdoni il bisticcio, che capisce anche ragionamenti o discorsi non particolarmente perspicui.